Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. La gelosia è un'emozione potente, capace di far emergere le nostre paure più profonde e di alterare la percezione della realtà. Quando i sentimenti di possesso e insicurezza prendono il sopravvento, si possono scatenare reazioni che vanno oltre la ragione, portando a gesti estremi. La storia che vi racconterò oggi è un esempio di come la gelosia possa trasformarsi in un'ossessione distruttiva, con conseguenze drammatiche. Anna Moriah Wilson, detta Mo, nasce il 18 maggio 1996 a Littleton, nel New Hampshire. La sua è una famiglia molto unita, composta dai genitori Eric e Karen Wilson e dal fratello Matthew. Vivono a Kirby, nel Vermont, che, essendo una piccola cittadina di circa 575 abitanti, è un ambiente sicuro in cui far crescere dei figli. Tutti si conoscono e si prendono cura l'uno dell'altro, creando una comunità molto unita. L'intera famiglia di Moriah è composta da atleti e lei segue le loro orme fin da piccola. Prova a praticare diversi sport, scoprendo presto una passione per il ciclismo e lo sci. Oltre ad eccellere nello sport, la giovane si distingue anche per la sua intelligenza. Nel 2014, Moriah si diploma alla Burke Mountain Academy, una scuola privata specializzata nell'allenamento di atleti di sci alpino. Le sue capacità atletiche sono tali da farla diventare una sciatrice junior di livello nazionale. Grazie al suo talento e al costante sostegno della sua famiglia, Moriah continua a coltivare le sue passioni senza lasciare, però, da parte lo studio. Nel 2019 si laurea al Dartmouth College ad Hanover, nel New Hampshire, conseguendo una laurea in ingegneria. Al termine degli studi cerca inizialmente di intraprendere una carriera nel suo settore, ma si rende conto ben presto che in realtà quella non è la sua strada. Dal momento che lo sci e il ciclismo sono da sempre stati due sue grandi passioni, e visto che possiede il talento e l'abilità per poter diventare professionista, decide di dedicarsi al ciclismo su ghiaia, uno sport che combina la mountain bike e il ciclismo su strada. Nel giro di tre anni, Moriah diventa una delle migliori cicliste su ghiaia del mondo e intraprende una carriera da professionista in questo sport, essendo ormai sulla buona strada per raggiungere i vertici del suo settore. Nel novembre del 2020 percorre in bicicletta il White Rim Trail, una strada sterrata lunga circa 113 chilometri che si snoda all'interno del Canyonlands National Park, nello Utah. Moriah lo completa in meno di sette ore, stabilendo il ricordo femminile per quel percorso. Giri intervistata da Pure Gravel nel 2020 dopo essere finita nella top ten di Unbound, una delle più popolari gare su ghiaia degli Stati Uniti, che si tiene ogni anno in Kansas. Il suo talento suscita sempre più interesse e Moriah si guadagna il suo posto di rilievo nel mondo del ciclismo. Nel settembre del 2021 la ragazza incontra il ciclista professionista Colin Strickland. I due vengono presentati durante una gara di ciclismo su ghiaia dalla durata di tre giorni in Idaho e diventano amici. Colin è subito colpito dal talento di Moriah e si offre di aiutarla a trovare degli sponsor. Dopo quel primo incontro decidono di vedersi di nuovo. Si ritrovano a Bentonville, in Arkansas, dove Moriah sta partecipando a una gara nella quale gareggia anche la ragazza di Colin, che si chiama Caitlyn Marie Armstrong. Caitlyn però, in quanto a talento ciclistico, non è minimamente paragonabile a Moriah e molti credono sia stato proprio questo particolare a scatenare la gelosia della fidanzata di Colin. Durante quel fine settimana Colin e Caitlyn litigano frequentemente, decidendo di mettere in pausa la loro relazione per qualche settimana. Secondo Colin avevano discusso principalmente perché lui aveva deciso di andare a fare un giro in bicicletta con alcuni ciclisti mentre si trovavano in Arkansas, senza invitarla. Non è chiaro se tra questo gruppo di ciclisti ci fosse anche Moriah, ma non è così essenziale perché la questione non è correlata al mancato invito. In realtà la decisione di escluderla era dovuta alla sua mancanza di esperienza, che non le avrebbe permesso di tenere il passo con il gruppo. Colin spiega che Caitlyn era molto arrabbiata e che alla fine aveva deciso di lasciarla a causa delle continue tensioni. La rottura è complicata perché Caitlyn e Colin vivevano insieme nella casa di lei a Austin, in Texas. I due si erano incontrati su un'app di incontri nel 2019 e nonostante Colin non fosse ancora del tutto pronto per una convivenza, avevano deciso di andare a vivere insieme. La sua era stata in un certo senso una scelta obbligata perché una tempesta aveva danneggiato la sua casa e aveva bisogno di un posto dove stare. Colin definisce la loro relazione tumultuosa, sottolineando che non era la prima volta che si lasciavano. In questo momento quindi Colin è single e circa 5-6 giorni dopo rivede Moriah. I due si trovano bene insieme, così iniziano a frequentarsi. Tuttavia neanche questa relazione in realtà vita lunga perché alla fine Colin e Caitlyn finiscono per tornare insieme. Colin afferma che non c'è mai stata una sovrapposizione delle due relazioni e lui e Moriah non hanno mai definito ufficialmente il loro rapporto. Sostiene quindi non aver mai tradito Caitlyn. Colin aggiunge che, dopo essersi riconciliato con Caitlyn, è rimasto amico di Moriah ma il loro legame da quel momento in poi non è mai andato oltre l'amicizia. Caitlyn però non sembra condividere questa visione. Durante il breve periodo di rottura tra lei e Colin, quando lui e Moriah hanno avuto un breve flirt, Caitlyn era riuscita a trovare il numero della ragazza, l'aveva contattata e diciamo che non era stata molto amichevole. Gli aveva detto chiaramente che Colin era il suo ragazzo e che doveva stare lontana da lui. Moriah, preoccupata, aveva deciso di parlare con Colin e confidargli che Caitlyn continuava a contattarla parlandole in modo alquanto aggressivo. Iniziava ad essere un po' spaventata e sperava che lui potesse fare qualcosa affinché smettesse di contattarla. Nonostante ciò, Caitlyn e Colin tornano insieme all'inizio di novembre. Nei mesi successivi la loro relazione sembra andare meglio, almeno osservandola dall'esterno. In realtà però Colin si trova a dover gestire l'estrema gelosia di Caitlyn, che si intensifica con il passare del tempo. Arriviamo così al 10 maggio 2022. Moriah, che vive a San Francisco, parte per il Texas perché deve sostenere una gara a Hiko. Non è solo una semplice competizione, su di lei c'è una grande aspettativa. Deve vincere. Fortunatamente Moriah ha una cara amica che vive ad Austin a sole due ore di distanza da Hiko. Questa amica è più che felice di ospitarla a casa sua, si chiama Caitlyn Cash e dato che il suo nome è uguale a quello della fidanzata di Colin, per non confondervi, durante la narrazione la chiamerò col suo cognome. Cash. L'11 maggio, il giorno dopo il suo arrivo in Texas, Moriah si scambia dei messaggi con Colin, pianificando di vedersi. Alle 16.49 Moriah invia a Colin un messaggio con l'indirizzo della casa dove sta alloggiando. Un'ora dopo, alle 17.43, Colin arriva a prenderla con la sua moto. Insieme vanno alla Deep Eddy Pool, la piscina pubblica più antica del Texas, per fare una nuotata. Dopo il bagno si dirigono al Pool Burger, un ristorante situato dall'altra parte della strada rispetto alla piscina, per cenare insieme. Passano piacevolmente del tempo insieme e, al termine del pasto, Colin accompagna Moriah a casa dell'amica alle 20.36. Colin non entra, la saluta e riparte in sella alla sua moto. Gli orari precisi sono noti perché la porta d'entrata della casa in cui Moriah alloggia è dotata di una serratura elettronica che registra il lasso di tempo in cui la porta rimane chiusa, ma non solo. Ogni volta che viene utilizzato il codice univoco assegnato a Moriah per aprire la porta, viene inviato un messaggio sul telefono della sua amica Cash per avvisarla. Alle 21.12 Moriah invia il suo ultimo messaggio, ma solo due minuti dopo l'audio di una telecamera esterna di un vicino cattura, urla e spari. Moriah giace sul pavimento del bagno, immobile. Purtroppo rimane lì per più di mezz'ora. Le ferite d'arma da fuoco sono molto gravi e sta perdendo troppo sangue. Alla fine Moriah viene a mancare. Verso le 22 Cash rincasa e trova la sua amica sul pavimento del bagno, immersa in una pozza di sangue. Guardando il corpo senza vita della sua amica, capisce immediatamente che qualcuno le ha sparato più volte. Sconvolta che esce dal bagno e chiama la polizia, ancora incredula. Non riesce a credere che Moriah, la sua amica, sia stata uccisa nella sua stessa casa. È agghiacciante. Passa i successivi dieci minuti al telefono in viva voce con il centralinista del 911, mentre cerca di effettuare delle compressioni toraciche alla sua amica. Per la ragazza, però, tragicamente, è ormai troppo tardi. Quando la polizia di Austin arriva sulla scena del crimine insieme ai soccorritori, pochi minuti dopo la chiamata, Moriah viene dichiarata morta. Sono le 22 e 10. La vittima presenta diverse ferite d'arma da fuoco. Due alla testa e una al cuore. Gli ufficiali, mentre esaminano la scena, trovano un proiettile e notano una piastrella scheggiata. Individuano e catalogano anche dei bossoli di proiettile da 9 mm. Il corpo di Moriah viene sottoposto ad autopsia da un medico legale della Contea di Trevis il 12 maggio, il giorno dopo il delitto. L'esame conferma che Moriah è morta a causa delle molteplici ferite d'arma da fuoco e non ci sono dubbi che si tratti di un omicidio. Le ferite principali sono localizzate alla testa, al cuore e alle mani. Tuttavia le ferite delle mani non indicano una difesa attiva, poiché nel momento in cui sono state inferte, la ragazza era già sdraiata sul pavimento, in posizione supina, senza la possibilità di difendersi. Presenta anche delle lacerazioni sotto il dito destro e il mento. Il passo successivo nelle indagini dei detective è quello di richiedere i video delle telecamere di sorveglianza del quartiere, dato che la bicicletta di Moriah sembra essere stata rubata. Viene trovata a pochi metri dalla casa. La polizia conclude che qualcuno l'aveva rubata, per poi ripensarci e lasciarla lì poco dopo. Analizzando i video di sorveglianza, i detective scoprono che un vicino di casa aveva una telecamera di sicurezza rivolta proprio verso l'entrata della casa di Cash. I filmati risultano molto utili per le indagini, si vede che Moriah era entrata in casa da circa un minuto e che Collins ne era già andato, quando alle 20.37 una Jeep Grand Cherokee, nera, con un portabiciclette agganciato al lato posteriore, aveva iniziato a girare più volte intorno al quartiere. Sebbene non riescano a leggere la targa, gli investigatori non impiegano molto tempo a identificare il veicolo come appartenente a Caitlyn Armstrong. La stessa sera, durante un colloquio con gli investigatori, Cash afferma che sapeva quali fossero i programmi della sua amica. Racconta che quel pomeriggio Moriah era andata a nuotare e poi a cena con un suo amico di nome Colin Strickland. Di conseguenza gli investigatori decidono di contattare Colin perché vogliono parlare con lui il prima possibile. Il 12 maggio, quindi il giorno successivo, gli agenti della Lone Star Fugitive Task Force si recano presso la casa che Colin condivide con Caitlyn per interrogarlo, muniti anche di un mandato di perquisizione. La Lone Star Fugitive Task Force nota una Jeep Grand Cherokee con un portabiciclette nel vialetto dell'abitazione. L'auto corrisponde perfettamente a quella vista nei filmati di videosorveglianza prima che Moriah venisse assassinata. Prequisendo la proprietà, gli agenti trovano anche due armi da fuoco insieme a dei bossoli compatibili con quelli trovati vicino al corpo della vittima sulla scena del crimine. Nel frattempo, durante l'interrogatorio, l'ufficiale chiede a Colin di spiegare la natura delle sue relazioni con Caitlyn e con Moriah. Colin spiega che la relazione con Caitlyn è complicata. Talvolta si lasciano per brevi periodi per poi tornare insieme e, durante una di queste pause, aveva iniziato a frequentare Moriah. Tuttavia la relazione non era durata perché Caitlyn, venutane a conoscenza, aveva contattato Moriah ed era stata tutt'altro che carina con lei, tanto che la ragazza si era spaventata e di conseguenza aveva concluso la relazione con Colin, restando però amici. Colin aggiunge di aver dovuto salvare il numero di Moriah in rubrica con un nome falso per evitare che Caitlyn scoprisse che si sentivano ancora, anche se in amicizia. E aveva anche dovuto cancellare tutte le loro conversazioni. Colin poi racconta nel dettaglio tutto quello che lui e Moriah avevano fatto il giorno precedente. Afferma che, dopo aver accompagnato la sua amica a casa, si era allontanato sulla sua moto e si era fermato poco dopo in un vicolo per mandare un messaggio a Caitlyn. «Ehi, sei fuori? Ero fuori a lasciare alcuni fiori per Alison a casa di suo figlio al nord e il mio telefono si è spento mentre tornavo a casa». Colin ammette con i detective di aver mentito a Caitlyn. Non voleva che lei venisse a conoscenza del fatto che era con Moriah. Tuttavia, sembra che Caitlyn sapesse esattamente dove si trovava Colin e con chi era. Durante l'interrogatorio, Colin identifica anche la Jeep che appare nei video delle telecamere di sorveglianza come l'auto di Caitlyn. Dice che la notte dell'omicidio di Moriah, Caitlyn era tornata a casa guidando proprio quella macchina, da sola. Infine, Colin conferma che era stato lui ad acquistare le due armi da fuoco che la task force aveva trovato durante la perquisizione. Una l'aveva acquistata nel dicembre 2021 e l'altra nel gennaio 2022. Specifica però che la 9 mm era di Caitlyn e che controllando avrebbero potuto verificare che è registrata suo nome. Colin è molto accondiscendente e disponibile a fornire informazioni. Per quanto riguarda Caitlyn, invece, la situazione è diversa. Prima di tutto, gli investigatori avevano scoperto l'esistenza di un mandato d'arresto a suo nome per un reato di classe B, ovvero furto. La ragazza si era fatta fare delle iniezioni di botox in un centro medico, ma poi si era rifiutata di pagare. Una volta arrivati alla stazione di polizia, però, gli investigatori avevano scoperto che il mandato di arresto di Caitlyn non era più valido a causa di un errore nella data di nascita riportata. In teoria, la ragazza è quindi libera di andarsene, ma decide di sua spontanea volontà di rimanere per rispondere alle domande del detective. Quando le chiedono se sa cosa sia successo a Moriah, Caitlyn risponde di sapere solo che una ragazza della comunità ciclistica è morta. Non aggiunge altro e rimane seduta immobile, evitando di rispondere alle domande dei detective. Quando le chiedono se fosse al corrente della breve relazione tra Moriah e Colin, Caitlyn alza gli occhi al cielo e dice che non sa se lei e Colin si fossero visti o fossero usciti insieme di recente. A questo punto il detective le comunica che la sua macchina è stata ripresa fuori dalla casa di Cash la notte in cui Moriah è stata assassinata. Caitlyn annuisce in segno di assenso, ma non dice nulla. Gli investigatori provano a dirle, forse eri arrabbiata, ti trovavi da sola in quella zona. Caitlyn però chiede se può andarsene e l'ufficiale non può opporsi. Sono trascorse appena 24 ore dall'omicidio e non hanno ancora le prove necessarie per arrestarla, ma sono abbastanza convinti che sia lei la principale sospettata. Proseguono quindi con le indagini cercando di ottenere un mandato d'arresto il più velocemente possibile. Il 13 maggio però Caitlyn non se ne sta di certo con le mani in mano. Vende la sua jeep, l'auto ripresa dalle videocamere di sorveglianza, a una concessionaria a South Austin per 12.200 dollari. In pratica la donna si è sbarazzata dell'automobile incriminante non appena le è stato permesso di tornare a casa. Il giorno successivo, il 14 maggio, Caitlyn viene vista nel primo pomeriggio dalle telecamere di sorveglianza dell'aeroporto di Austin, mentre sale su un aereo diretto all'aeroporto di Houston Hobby. Indossa un paio di pantaloni bianchi, un maglione blu e porta con sé quello che sembra essere un tappetino da yoga. Si imbarca poi su un altro volo per New York dove ha una casa in cui soggiornare. Tuttavia la sua destinazione finale non è nota ai detective. Nel frattempo ad Austin gli investigatori ricevono una chiamata anonima da una persona che afferma di essere un'amica di Caitlyn che si rivela di grande aiuto. La fonte afferma che Caitlyn nel gennaio 2022 aveva scoperto che Moriah e Colin si scambiavano ancora messaggi. La cosa l'aveva fatta talmente infuriare che aveva detto esplicitamente di voler uccidere Moriah. Riferisce anche chi aveva già acquistato una pistola o comunque era intenzionata a farlo. A questo punto gli investigatori sono sempre più convinti che sia Caitlyn la responsabile del delitto. Il 17 maggio, meno di una settimana dopo, viene emesso un mandato di arresto per omicidio a suo carico, ma Caitlyn sembra svanita nel nulla. I detective si recano alla sua casa a New York per effettuare l'arresto, ma non la trovano e non hanno idea di dove possa nascondersi. Hanno dei filmati di sorveglianza che la collocano in tre aeroporti diversi nel giro di pochi giorni, ma dopo l'arrivo a New York il suo nome non compare in nessun altro registro d'imbarco. In realtà appena atterrata a New York, Caitlyn aveva già pianificato di salire su un volo per la Costa Rica. Il 18 maggio, usando il nome e il passaporto di sua sorella, si imbarca su un volo per San José in Costa Rica e poi prosegue fino a Santa Teresa, una cittadina a circa due ore di distanza. Ma parliamo ora del passato di Caitlyn. Chi è davvero questa ragazza? In realtà non si sa molto di lei. Caitlyn Armstrong è nata il 21 novembre 1987 ed è cresciuta a Livonia, in Michigan. Dopo essersi diplomata alla Stevenson High School nel 2005, ha proseguito gli studi frequentandola a Schoolcraft College nella stessa città in cui è cresciuta e infine ha terminato il suo percorso di studi frequentando l'Eastern Michigan University. Chi la conosce la descrive come una persona gentile e amichevole ed è in buoni rapporti con i suoi familiari. Lo yoga è una sua grande passione. Nel 2018 aveva trascorso un mese a Bali per seguire un percorso intensivo di insegnamento. Oltre ad essere un insegnante di yoga è anche un'agente immobiliare abilitata. La Costa Rica sembra il posto perfetto per Caitlyn. È un luogo isolato e incantevole dove può praticare e insegnare yoga. Santa Teresa è una piccola cittadina sulla spiaggia che le appare come il posto ideale dove poter ricominciare da capo. Nel tentativo di rendersi irriconoscibile, Caitlyn decide di rifarsi il naso e di modificare taglio e colore di capelli. Per finire cambia il nome in Harry Martin. Nel frattempo gli amici e la famiglia di Moriah sono devastati, si domandano cosa succederà e si tormentano all'idea di non riuscire a ottenere giustizia. Ma soprattutto si chiedono dov'è Caitlyn? La donna alloggia al Don John's Surf and Yoga Lounge per meno di 20 dollari a notte. È un ostello dove, secondo le testimonianze delle persone che alloggiavano lì, nello stesso periodo, la si poteva vedere spesso mentre praticava o insegnava yoga, seduta davanti al computer portatile nell'area comune della lounge. Talvolta la si poteva anche scorgere e bere qualche drink con la gente del posto. Nel frattempo gli US Marshals continuano a fare tutto il possibile per localizzarla e il 25 maggio le autorità annunciano che Caitlyn Armstrong è ricercata per omicidio di primo grado con un'ulteriore accusa di fuga illegale per evitare il processo. Collaborano con le autorità internazionali diffondendo una sua foto e dopo 43 giorni di ricerche, finalmente la catturano il 29 giugno. Caitlyn si trova seduta al tavolo del patio dell'ostello quando viene arrestata dagli US Marshals. Il giorno successivo le autorità annunciano che è stato effettuato il suo arresto, poi danno il via al processo di estradizione. Caitlyn viene ufficialmente estradata in Texas il 4 luglio 2022, dove deve affrontare l'accusa di omicidio di primo grado e fuga illegale per evitare il processo. La cauzione viene fissata a 3,5 milioni di dollari. 16 giorni dopo appare in tribunale e si dichiara non colpevole di tutte le accuse. Lo Stato inizia a preparare il caso contro di lei anche se il processo subirà qualche ritardo. Inizialmente, programmato per ottobre 2020 viene poi spostato al giugno 2023 e infine riprogrammato un'ultima volta per ottobre 2023. Caitlyn Armstrong, di 24 anni, rischia una pena massima di 99 anni per l'omicidio di primo grado di Moriah Wilson. Rischia anche una pena aggiuntiva di 20 anni per il reato di fuga illegale dopo aver causato lesioni personali, dato che la donna aveva provato nuovamente a scappare l'11 ottobre 2023. Si era sottoposta a una visita medica a South Austin ed era riuscita a fuggire temporaneamente dalla custodia della polizia, costringendo gli agenti a inseguirla per circa un chilometro e mezzo prima di riuscire a catturarla di nuovo. La selezione della giuria ha luogo il 30 ottobre e al termine della giornata viene deciso che Caitlyn avrebbe affrontato una giuria composta da otto donne e sei uomini. Il movente credo che a questo punto sia molto chiaro anche a voi. Caitlyn Armstrong è una donna profondamente gelosa e amareggiata che ha deciso di uccidere la donna che credeva essere sua rivale in amore. L'accusa intende chiamare a testimoniare Colin Strickland e due care amiche di Caitlyn. La difesa invece ha pianificato di ribattere con due argomenti principali. Uno, gli investigatori si sono concentrati esclusivamente su Caitlyn, trascurando altre possibili piste. Due, e questa è la loro argomentazione principale, nessuno aveva effettivamente visto Caitlyn premere il grilletto. È vero, l'accusa ha dei video in cui un'auto, corrispondente alla descrizione di quella di Caitlyn, transita davanti alla casa in cui soggiornava Moriah, un'ora prima del delitto. Ma le telecamere non hanno ripreso Caitlyn mentre entra o esce dalla casa. Le prove contro Caitlyn però sembrano schiaccianti. Andiamo con ordine. Il filmato di videosorveglianza ha ripreso un'auto che corrisponde perfettamente alla descrizione della Jeep di Caitlyn sulla scena del delitto. È vero, non viene vista entrare o uscire dall'auto, ma nel video non compare nessun altro. Secondo l'accusa, la donna non aveva nemmeno un piano efficace per evitare di essere vista, poiché, se ci avesse riflettuto, avrebbe evitato di guidare in modo così vistoso nei pressi della scena del crimine. Probabilmente il fatto che non la si vede entrare o uscire dall'auto è dovuto solo a una coincidenza derivata dal parcheggio scelto lontano dalle telecamere di sorveglianza. Si dicono certi che fosse lei a guidare la Jeep perché Colin durante la sua testimonianza aveva detto che Caitlyn la sera stessa era tornata a casa con la Jeep. La prova più schiacciante è indubbiamente l'arma da fuoco di Caitlyn. Durante la perquisizione i detective hanno acquisito come prova una pistola da 9 mm. Un esperto l'ha utilizzata per sparare una volta. Fermato è testimoniato che corrisponde indubbiamente all'arma utilizzata per sparare a Moriah. Inoltre il DNA di Caitlyn è stato ritrovato sulla bicicletta di Moriah che, se ricordate, vi ho detto che sembrava essere stata rubata e che poi era stata ritrovata abbandonata a pochi metri dalla scena del delitto. I test forensi hanno rilevato due profili genetici diversi sulla bici, uno dei quali appartenente proprio a Caitlyn Armstrong. La difesa sostiene che la polizia non ha indagato adeguatamente sull'altro profilo genetico rilevato sulla bicicletta. Tuttavia, concorderete con me che spiegare la presenza del DNA di Caitlyn sulla bicicletta sarebbe stato molto difficile. Per questo motivo la difesa ha cercato di sviare l'attenzione su altro. L'accusa dispone anche dei dati GPS della jeep di Caitlyn, i quali confermano che l'auto si trovasse vicino al luogo del delitto. Inizialmente la difesa aveva messo in dubbio che la vettura visibile nel video registrati dalle telecamere di sorveglianza fosse realmente la macchina di Caitlyn. Verso la fine del processo, però, cambia tattica, iniziando a sostenere che nessuno può affermare con certezza che alla guida ci fosse realmente Caitlyn, ammettendo così implicitamente che quella nei video fosse proprio la jeep di Caitlyn. L'accusa in realtà riesce anche a dimostrare che ci fosse Caitlyn al volante grazie all'analisi dei dati sul suo telefono che si muoveva in sincronia con la jeep. A meno che non si voglia sostenere che un'altra persona le abbia rubato sia il telefono che la macchina per poi restituirglieli poche ore dopo. Direi che è impossibile. Inoltre l'accusa è in possesso di altri dati digitali, inclusi quelli dell'account iCloud di Caitlyn, in cui è stato rinvenuto dagli investigatori uno screenshot cancellato di Google Maps impostato sull'indirizzo della casa dove Moriah alloggiava come ospite di Cash. Viene però da chiedersi, come ha fatto Caitlyn a scoprire dove soggiornasse Moriah? Secondo l'accusa Caitlyn aveva accesso all'iPad e al laptop di Colin, avrebbe quindi potuto accedere facilmente ai suoi messaggi di testo. Se ricordate, Colin e Moriah si scambiavano numerosi messaggi. Colin stesso aveva raccontato durante il primo interrogatorio di aver cambiato il nome di Moriah in rubrica proprio per evitare di testare sospetti in Caitlyn, ma l'accusa ritiene che lei fosse comunque riuscita a scoprire il trucchetto del fidanzato. Probabilmente spiando i messaggi dei dispositivi elettronici di Colin, non solo aveva scoperto dove alloggiava Moriah durante la sua permanenza in Texas, ma sapeva anche che lei e Colin avevano in programma di trascorrere il pomeriggio insieme e, di conseguenza, aveva deciso di ucciderla. Le prove sembrano indicare che Caitlyn avesse addirittura seguito Moriah e Colin per parte della giornata che avevano trascorso insieme, oltre ad aver guidato in modo ossessivo intorno alla casa in cui alloggiava. Inoltre risulta che Caitlyn avesse utilizzato Strava, un'app per monitorare e condividere le strade percorse durante le proprie attività sportive, trovando il profilo di Moriah e visitandolo per ben sei volte il giorno dell'omicidio per controllare gli spostamenti più recenti della ragazza. Un ulteriore elemento a sfavore è il fatto che Caitlyn, mentre si trovava in Costa Rica, avesse cercato online il suo nome tra le news. Ed è importante considerare anche il fatto che la donna avesse lasciato il paese usando il passaporto di sua sorella. La difesa tuttavia afferma che Caitlyn abbia lasciato il paese legalmente, dato che quando era stata interrogata il 12 maggio e poi era partita non era a conoscenza dell'emissione di un mandato di arresto nei suoi confronti. Sostengono inoltre che Caitlyn amasse viaggiare e che quindi la sua partenza non fosse così sospetta, ma la domanda rimane. Perché allora ha usato il passaporto di sua sorella? Perché avrebbe dovuto farlo, se non per far risultare il suo nome tra le persone imbarcate sul volo per la Costa Rica? Senza contare che una volta lì aveva cambiato nome e tentato di modificare il suo aspetto. Parliamo ora di alcune testimonianze ascoltate dalla giuria. Colin, quando prende la parola, racconta di aver interrotto ogni comunicazione con Caitlyn il 13 maggio e di non averla più sentita da allora. Durante la sua deposizione ricostruisce la sua relazione con Caitlyn e il legame che aveva con Moriah, per poi ripercorrere la cronologia degli eventi del giorno dell'omicidio. Successivamente salgono sul banco dei testimoni alcuni amici di Caitlyn, tra cui una donna di nome Nicole. La sua deposizione è cruciale. Racconta che nell'ottobre 2021, quando Moriah e Colin si erano conosciuti e avevano iniziato a frequentarsi, aveva notato un crescente nervosismo in Caitlyn, soprattutto dopo aver visto i due entrare insieme in un bar. Ricorda di averle chiesto come avrebbe reagito se Colin avesse iniziato a frequentare un'altra persona seriamente. Caitlyn, senza esitazione, gli aveva risposto, la ucciderei. Un'altra amica, Jacqueline, riferisce che aveva visto Caitlyn tremare dalla rabbia mentre parlava di Colin e Moriah e che gli aveva confidato di aver acquistato una pistola. Entrambe le amiche quindi affermano di averla sentita esprimere la volontà di uccidere Moriah. Caitlyn, invece, sceglie di non testimoniare per raccontare la sua versione dei fatti. Nelle dichiarazioni conclusive, il procuratore Ricky Jones invita la giuria a non cadere nelle trappole della difesa, ripercorrendo nuovamente ogni prova e ricordando alla giuria che, solo 19 giorni prima dell'inizio del processo, Caitlyn aveva tentato di scappare. Basandosi sulle evidenze, chiede alla giuria di dichiarare Caitlyn Armstrong colpevole di omicidio. Il 23 novembre 2023 Caitlyn viene dichiarata colpevole di omicidio dopo meno di tre ore di deliberazione. La fase della condanna inizia il giorno seguente e il giudice concede ad alcune persone di parlare prima di pronunciare la sentenza. Vi mostro la clip di Cash, l'amica di Moriah, che ha subito un trauma incredibile quando ha trovato il corpo senza vita della sua amica, ma ha comunque cercato di salvarla fino all'arrivo dei soccorsi e della polizia. Caitlyn, I want you to know that I fought for Mo with everything I had that night. From the moment that I got home and started doing chest compressions, which was the longest ten minutes of my entire life. I remember feeling so relieved when the police arrived that help was finally there. People who really knew what they were doing and who could help me care for her. I fought for her afterwards when I was pulled from my home by police and taken downstairs. I initially refused to go to the police station that night because I didn't want her to be alone. In one of the body cam videos, I say something along the lines of, I can't leave her. I'm the only one she has here. I couldn't understand why they weren't bringing her downstairs to the ambulance so that they could rush her to the hospital. I asked one of the officers why they weren't bringing her down. And that's when he told me that she unfortunately didn't make it. That was the first moment that night when I realized that there was no coming back from this. I think I had just assumed that as soon as she was taken to a hospital that she was going to be okay. It never actually crossed my mind in the chaos of that night that she wouldn't be alive. That she would die. That she was already dead when I arrived home. Vorrei anche farvi ascoltare la dichiarazione della mamma di Moriah. Traspare una persona davvero straordinaria. I'm not sure if my words can penetrate your heart, but I'm going to try. I hate what you did to my beautiful daughter. It was very selfish and cowardly that violent act on May 11. It was cowardly because you never chose to face her woman to woman in a civil conversation. She would have listened. She was an amazing listener. She would have cared about your feelings. She was a caring, empathetic person. If you allowed yourself to actually know her, you never, ever would have wanted to hurt her. This never would have happened. You and Colin could have had a beautiful life together. You destroyed that. You ruined your life, your family's lives, our lives, and crushed the hearts of many more. When you shot Mariah in the heart, you shot me in my heart. You shot me in my heart. Eric and Matt in their hearts. You shot Mariah's cousins and aunts and uncles and all the people who loved her pierced their hearts. You will have to live with your choices and its consequences, just like all of us do on this planet. Caitlin Armstrong viene condannata a 90 anni di prigione, una pena che reputo adeguata. Molti psichiatri, a seguito della conclusione di questo caso, hanno affermato che il comportamento di Caitlin Armstrong rispecchia alcune caratteristiche del disturbo borderline della personalità. È una condizione caratterizzata da instabilità emotiva, impulsi difficili da gestire e spesso da un'immagine distorta di sé. La psicoterapeuta Shavon Scott ha affermato «Molte donne sono in prigione per crimini come questo» e, in genere, possiamo dire che la maggior parte di loro ha una diagnosi di disturbo borderline di personalità, evidenziando la possibile causa sottostante di tali azioni drastiche. secondo la psicoterapeuta, il caso suggerisce il ritratto di una donna che potrebbe aver vissuto con un disturbo mentale non diagnosticato, che può portare a conseguenze estreme quando provocato da fattori di stress emotivi. Probabilmente, Caitlin Armstrong viveva in una costante e intensa turbolenza emotiva. Era estremamente dipendente e bisognosa nei confronti di Colin, ma era anche soggetta a improvvisi scatti di rabbia per qualcosa che lui diceva o faceva, che la portavano a percepire le cose in modo negativo. Di conseguenza, la donna aveva portato quel tempo un notevole disagio nella relazione con Colin, soprattutto dopo che lui aveva chiuso la breve frequentazione con Moriah. Arriviamo alle conclusioni. Moriah Wilson aveva solo 25 anni quando quella donna le ha tolto la vita. Sinceramente, trovo assurdo che Caitlin non abbia avuto il coraggio di affrontare Moriah, magari per raccontarle quali fossero le sue paure. Forse ha ragione la mamma di Moriah, quando nella dichiarazione afferma che sua figlia l'avrebbe ascoltata. Se pensate che Caitlin abbia agito in questo modo anche a causa di un disturbo mentale non diagnosticato, devo sottolinearvi che però chi ha avanzato queste ipotesi non ha fatto delle sedute con Caitlin. Quindi le loro parole non possono essere considerate come verità assoluta. Fare delle diagnosi a distanza, senza parlare con la persona alla quale bisogna diagnosticare l'eventuale disturbo, non è né etico né accurato. Inoltre, questo disagio non deve e non può essere una giustificazione, ma fornisce un elemento in più per valutare l'origine dei suoi atteggiamenti persecutori. Ciò non toglie che questo sia stato un omicidio totalmente inutile e privo di senso. Riguardo al comportamento di Colin, alcune persone sostengono che non avrebbe dovuto tenere nascosta la sua amicizia con Moriah. In linea teorica concordo con questa opinione, ma so bene come reagiscono le persone particolarmente gelose. E comprendo perché Colin abbia deciso di nascondere la verità a Caitlin. Anche perché lui e Moriah erano davvero solo amici. Probabilmente avevano condiviso una certa intimità nelle settimane in cui si erano frequentati, ma onestamente in così poco tempo non credo abbiano avuto modo di conoscersi veramente a fondo. Di conseguenza, a mio parere, quella tra i due rimaneva un'amicizia ancora superficiale che probabilmente stavano approfondendo proprio durante l'ultima uscita insieme. Anche perché essendo entrambi atleti non sempre il loro calendario combaciava e non era così facile incontrarsi. Detto questo, ovviamente voglio sapere la vostra opinione. Voi cosa ne pensate di questo caso? Lo conoscevate già? Fatemi sapere le vostre idee e opinioni qui sotto nei commenti perché io vi leggo. Tutti quanti, sempre. Nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!